Oggi, se facesse ovviamente le richieste seguendo la normativa, dopo dieci anni può fare la richiesta e chiedere al Presidente della Repubblica di diventare cittadino italiano, ovviamente rispettando una serie di regole, che è cosa differente rispetto a modificare la regola per cui chi viene in Italia e partorisce un figlio in Italia diventa automaticamente cittadino italiano quel bambino che nasce. Questo è lo you soli. In questo momento il signore, che è l'altra parte della telecamera, può fare la richiesta. Se è da 24 anni che è in Italia, evidentemente qualcosa avrà ostacolato questa sua richiesta o la volontà stessa non è stata esplicata. Ci sono delle regole, basta rispettarle. Peraltro faccio anche notare che, come ha letto giustamente prima, se si sente italiano o marocchino, ricordiamolo che non è un passaporto o non è una carta di identità che fa l'appartenenza a una comunità, ma è il viverci costantemente. Quindi il fatto che oggi le regole dicano che dopo dieci anni una persona ha diritto a diventare cittadino italiano significa costruire un percorso di integrazione, per cui alla fine non è un foglio di carta ma è l'appartenenza a valori, è l'appartenenza anche a un sistema di cultura a cui ovviamente non vogliamo rinunciare.